40 milioni di euro per chi lavora nelle zone economiche e ambientali, le ZEA, messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare attraverso l'apposito bando pubblicato sul sito del Ministero. I beneficiari dei contributi sono le micro e piccole imprese, le attività di guida escursionistica ambientale, le guide dei parchi che hanno una sede operativa all'interno di una ZEA o che operano in un'area marina protetta e che hanno sofferto una riduzione del fatturato. Il contributo straordinario è cumulabile nel tetto massimo della perdita subita con le indennità e le agevolazioni anche finanziarie emanate a livello nazionale per fronteggiare la crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria Covid-19, comprese le indennità erogate dall'Inps. Entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze sarà pubblicato sul sito del Ministero e sul portale dedicato il piano di riparto del contributo straordinario tra i beneficiari ammessi. Per entrare più nel dettaglio delle zone ZEA, ovvero le zone economiche e ambientali, sono le aree che coincidono con i territori dei parchi nazionali istituite dalla legge Clima a fine 2019. Il Ministero dell'Ambiente ha regolato le ZEA con il decreto interministeriale del 27 novembre 2020 numero 244 che individua criteri e modalità di concessione del contributo straordinario. Il bando ZEA rilancio individua le specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione del contributo straordinario. Per accedere al bando ZEA la domanda deve essere compilata in via telematica accedendo mediante le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate al portale www.contributozea.it raggiungibile dal sito del Ministero dell'Ambiente. Sarà possibile trasmettere le istanze fino al 15 marzo, seguendo le indicazioni riportate nel manuale istruzioni per la compilazione pubblicato sul portale contributozea.it. I requisiti per i soggetti dei beneficiari sono 1. le micro e piccole imprese, 2. le attività di guida escursionistica ambientale, 3. le guide del parco dovranno risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e alla presentazione dell'istanza dovranno 1. avere sede operativa all'interno di una ZEA o operante all'interno di un'area marina protetta, 2. essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2,26 della legge 8 agosto 1995 numero 335, 3. avere sofferto una riduzione del fatturato che deve essere determinata facendo la differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020. Il dato del 2020 deve risultare inferiore al dato del 2019. Entra nel merito il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni, Tommaso Pellegrino. Questa è la testimonianza di una nuova attenzione verso chi opera all'interno dei parchi e delle aree marine protette, ha detto il presidente. Si tratta del risultato di un'azione che ha avuto impulso dal nostro territorio a cui il ministro Costa ha dedicato particolare attenzione, raggiungendo risultati insperati. Della stessa opinione il direttore del Parco, Romano Gregorio, che aggiunge, da tempo avevamo evidenziato la necessità che i territori dei parchi avessero una fiscalità di vantaggio. Il riconoscimento delle ZEA e le risorse destinate per le imprese che operano in questi territori va in questa direzione e aiutano a realizzare meritati vantaggi per le popolazioni che abitano i territori dei parchi.